camera lancio avanti attenzione andiamo all'attacco posto di combattimento 20 gradi a sinistra macchine avanti a tutta forza se non lo freghiamo prima dell'alba ci scappa macchine a quanti giri siete aumentare ci siamo camera lancio attenzione camera lancio avanti attenzione camera lancio avanti attenzione andiamo all'attacco siluri uno e due pronti al lancio siluri uno e due pronti al lancio tubi di lancio pronti fuori uno fuori uno fuori due fuori due buona Evviva, tu che tu assegni, comandante! Complimenti, comandante. Prosegua per rotta 2-3. Bene, comandante.